Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale, con questo video entriamo nel mondo di Antonella Fiordelisi con uno spoiler non spoiler che ha lasciato tutti i suoi followers con l'acquolina in bocca. Ma prima di immergerci in questo mistero cliccate su iscriviti per essere sempre aggiornati e ricordando che il vostro supporto gratuito per noi è molto importante, altrimenti non saremo qui a creare fantastici contenuti per voi. Antonella ha fatto sapere attraverso una storia su Instagram di dover studiare dizione e qualcos'altro di importante e interessante che tiene sul vago e ha raccomandato tutti i suoi fan di ricordare questa storia in futuro poiché il percorso è lungo ma arriverà. Cosa potrebbe mai essere? L'inizio di un nuovo percorso lavorativo? Aspettiamo con ansia ulteriori sviluppi. Passiamo ora a una tappa importante di questo video. I suoi genitori hanno fatto visita a Milano per sporgere due denunce, mentre Antonella sul suo canale broadcast Instagram ha condiviso una foto della sua mamma mentre redige la lista degli haters da denunciare. Un'azione legalmente giustificata o sarebbe meglio lasciar correre? Cari amici del nostro canale, vogliamo sapere cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti e condividete le vostre opinioni su queste ultime vicende di Antonella Fiordelisi. E se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e fateci sapere cosa vorreste vedere nei prossimi video. Grazie per essere stati con noi e alla prossima!